Ci sono tanti quadri, tante immagini, tanti dipinti che rappresentano Gesù, ma il dipinto del Gesù Misericordioso è unico nel suo genere, non solo perché, come abbiamo già detto in un altro video, Gesù stesso ne è l'autore, ma perché adesso sono legate dalle grandi e speciali promesse. Vediamo! Il ruolo dell'immagine è duplice. In primo luogo, l'immagine è un segno che ricorda agli uomini di avere fiducia in Cristo e la richiesta di compiere atti di misericordia attraverso l'azione, la parola e la preghiera. In secondo luogo, l'immagine serve sia a Gesù che agli uomini. Per Gesù l'immagine è uno strumento attraverso il quale distribuisce la sua grazia. Agli uomini l'immagine serve come un recipiente con il quale attingono la grazia della fonte della misericordia. Santa Faustina scrive così nel suo diario, l'anima che venererà questo quadro non perirà. La promessa è dunque più importante legata alla nostra salvezza. Non solo. Se veneriamo l'immagine pieni di fiducia, otteniamo da Gesù che la sua misericordia non soltanto ci salverà dalla perdizione eterna, ma si occuperà dei nostri problemi puramente terreni, come se fossero i suoi. La salute, la vita felice in famiglia, risolvere i problemi del lavoro, una vita dignitosa. Gesù promette anche progressi sulla via della perfezione cristiana, attraversando e vincendo le tentazioni del maligno. E poi Gesù promette la grazia di una morte serena, una morte felice. In breve, la promessa legata all'autentica venerazione dell'immagine riguarda il progresso sulla strada della santità, la buona morte e la salvezza eterna. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale di Faustinum. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te.